Musica ...lo sette del libro dei proverbi Libro dei proverbi Fratelli si possono accomodare Capitolo sette Leggeremo tutto, tutto il capitolo e vorrei chiedervi in maniera particolare fratelli e sorelle di prestare molta attenzione alla lettura che faremo di questo testo mi piacerebbe che tutti avete la Bibbia aperta o chi non ce la può ascoltare con attenzione Libro dei proverbi Capitolo sette Addio la gloria Figlio mio custodisci le mie parole fa tesoro dei miei precetti osserva i miei precetti e vivrai custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi legatele alle dita scrivili sulla tavola del tuo cuore di alla sapienza tu sei mia sorella e chiama l'intelligenza amica tua affinché ti preservino dalla donna altrui dall'estranea che usa parole seducenti ero alla finestra della mia casa dietro la mia persiana e stavo guardando vidi tra gli sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno che passava per la strada presso l'angolo dove si abitava e si dirigeva verso la casa di lei al crepuscolo sul declinare del giorno quando la notte si faceva nera oscura ecco fargli si incontro una donna in abito da prostituta e astuta di cuore turbolenta e proterva che non teneva piede in casa ora in strada ora per le piazze e in agguato presso ogni angolo essa lo prese lo baciò e sfacciatamente gli disse dovevo fare un sacrificio di riconoscenza oggi ho sciolto i miei voti perciò ti sono venuta incontro per cercarti e ti ho trovato ho abbellito il mio letto con morbidi tappeti con coperte ricamate con filo d'egitto l'ho profumato di mirra di aloe e di cinamomo vieni inebriamoci d'amore fino al mattino sollazziamoci in amorosi piaceri perché mio marito non è a casa è andato in viaggio è andato in viaggio lontano ha preso con sé un sacchetto di denaro non tornerà a casa che al plenilunio lei lo sedusse con le sue molte lusinghe notate lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra egli le andò dietro subito come un bue va al macello come uno stolto e condotto ai ceppi che lo castigheranno come un uccello si affretta al laccio senza sapere che è teso contro la sua vita finché una freccia gli trapassi il fegato or dunque figlioli ascoltatemi state attenti alle parole della mia bocca il tuo cuore non si allontani il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie di una tale donna non ti sviare per i suoi sentieri perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte è grande è il numero di quelli che ha uccisi la sua casa è la via del soggiorno dei morti la strada che scende in grembo alla morte fin qui la parola del Signore la prima sezione di i primi versi del capitolo 7 del libro dei proverbi in questi primi versetti si ripete almeno tre volte lo stesso termine figlio mio custodisci osserva i miei precetti e vivrai poi di nuovo custodisci il mio insegnamento ed è interessante perché il termine custodisci e osserva è la diversa traduzione di una sola parola che significa appunto custodire osservare come qui i traduttori usano mantenere proteggere conservare non è il primo caso dove nel libro dei proverbi si è invitati a a conservare a osservare a proteggere ad esempio è scritto sempre nel libro dei proverbi il tuo cuore conservi le mie parole osserva i miei comandamenti ancora sempre nel libro dei proverbi è scritto figlio mio osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre e potrei continuare nel citarvi ancora tanti versetti nel libro dei proverbi dove il predicatore Salomone più volte sprona a custodire a proteggere ad osservare i precetti del Signore e stasera fratelli non è più Salomone ma è lo Spirito Santo che ancora una volta a me e a voi viene con voce autorevole e viene a ricordarci figlio mio spero vi sia il vostro Amen conserva i miei insegnamenti osserva i miei precetti e vivrai conservali proteggili mantienili vivi nella tua vita poi come se volessi ancora rimarcare questa importanza aggiungerai legatele alle dita cioè siano sempre a portata di mano questi insegnamenti siano sempre pronti nel momento del bisogno scrivili sulla tavola del tuo cuore quanti vogliono chiedere a Dio stasera di aiutarci ad osservare gli insegnamenti del Signore a scriverli sulla tavola del nostro cuore a legarceli sulle dita a tenerli a portata di mano perché da tutti i versetti che troviamo nel libro dei proverbi sul custodire sul proteggere sul mantenere sul conservare la parola di Dio oh fratelli sorelle la conseguenza è sempre la benedizione e Salomone mentre esorta i suoi lettori a proteggere a custodire gli insegnamenti come si protegge la pupilla dell'occhio avete fatto caso fratelli ci fate caso quando c'è parecchio vento la prima cosa che proteggiamo cosa sono gli occhi subito quando usciamo dalla macchina c'è vento stringiamo subito è vero o no un cenno di esistenza subito stringiamo gli occhi e ci mettiamo la mano negli occhi perché proteggiamo gli occhi stringiamo le pupille Dio ci invita stasera a proteggere la fede dinanzi al vento di questo mondo che vuole creare fastidio alla vista spirituale e poi aggiunge per favore di alla sapienza tu sei mia sorella e o chiama l'intelligenza amica mia Dio Dati dice mia parente quindi siamo chiamati a custodire a proteggere ma siamo chiamati anche a cercare la sapienza l'intelligenza che proviene dal Signore ne avete bisogno di sapienza e di intelligenza Giacomo dirà chi manca di sapienza la chiega a Dio che è largo nel donare ma io di questo vorrei parlarvi stasera della finestra di Dio perché Salomone prima inizia dicendo custodisci proteggi chiama l'intelligenza cerca la scienza e poi al versetto 6 passa a narrare una storia e Salomone dice ero alla finestra della mia casa dietro la mia persiana e stavo guardando e comincia a narrare ciò che sta guardando fratelli stasera non c'è Salomone dietro una finestra ma stasera dietro alla finestra c'è Dio Dio è affacciato alla sua finestra e come Salomone osserva ciò che accade fuori dalla sua casa così anche Dio sta osservando ciò che accade nella nostra vita fuori dalla sua casa è scritto infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore egli osserva i suoi sentieri e così Salomone guarda attraverso la persiana e osserva che cosa osserva beh anzitutto vidi tra gli sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno Salomone guarda tra le persiane osserva un gruppo di persone un gruppo di sciocchi e tra questo gruppo di sciocchi c'è uno sciocco un ragazzo privo di senno anzitutto fratelli tutto ciò che accade fuori la casa di Salomone non è mai nulla di buono tutto ciò che accade fuori dalla casa di Dio non è mai nulla di buono fratelli tutto ciò che accade lontani dal Signore non è mai nulla di buono Salomone vide tra gli sciocchi un ragazzo in mezzo agli sciocchi il Signore possa aiutarci fratelli e sorelle perché anzitutto spero vi sia il vostro amen non è mai buono allontanarsi dalla casa del Signore Dio ci aiuti a badare alle nostre compagnie qui è scritto che vidi tra gli sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno tra questo gruppo di sciocchi c'era uno sciocco per eccellenza beato l'uomo che non che non cammina che non cammina secondo il consiglio degli empi che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori ma il cui diletto è nella legge del Signore quanti credono stasera che Dio è affacciato alla finestra ed egli sta guardando proprio come guardava Salomone e tra gli sciocchi vide un ragazzo privo di senno che si circondava di gente ancora più sciocca di lui Signore stasera aiutaci perché il nostro diletto è nella legge del Signore vogliamo dunque proteggere conservare gli insegnamenti di Dio per due motivi importanti uno Dio ci chiama a proteggere la fede il secondo motivo per il quale dobbiamo fare attenzione alle persone che frequentiamo nel proteggere la nostra fede per distinguerci è perché Dio è affacciato alla finestra e ci sta osservando ad uno ad uno ci osserva dal mattino alla sera anzi ci osserva pure durante la notte ci osserva e noi vogliamo ringraziare il Signore perché noi avvertiamo gli occhi di Dio su di noi e proprio perché Dio è affacciato alla finestra noi vogliamo comportarci come figlioli fuori di luce testimoniando della grazia di Dio fuori dalla casa c'è allontanamento e tutto quello che accade fuori non è mai buono un ragazzo un ragazzo privo di senno un ragazzo immaturo Paolo dirà a Tito esorta ugualmente i giovani a essere saggi quindi siamo chiamati alla saggezza all'intelligenza alla spiritualità e questo ragazzo dice Salomone che passava per la strada presso l'angolo dove si abitava camminava a zonzo senza una meta precisa camminava vagava ed è scritto che si dirigeva verso la casa di lei al crepuscolo sul declinare del giorno quando la notte si faceva nera oscura questo ragazzo che è Salomone guarda cammina a zonzo e cammina nel buio e camminando nel buio al crepuscolo dove si avvicina si avvicina presso la casa del pericolo si avvicina presso una donna adesso qui lo vedremo ecco fargli incontro una donna in abito da prostituta questa donna è figura dell'avversario e quando noi camminiamo nel buio ci si fa incontro l'avversario e io lo voglio ripetere perché questa è una parola per qualcuno in maniera particolare stasera quando camminiamo nel buio nel crepuscolo quando vaghiamo sul declinare del giorno quando la notte si fa buia e scura ecco gli fai gli incontro una donna con abiti da meretrice fratelli l'avversario è in agguato e quando noi camminiamo nel buio lui ci si fa incontro e vedremo tra poco che l'unica cosa che può fare è farci del male ma stasera vogliamo ricordare che Dio guarda dalla finestra e noi siamo chiamati a non camminare nel buio siamo chiamati a camminare nella luce del Signore nel giorno noi siamo figli del giorno e non della notte e camminando camminando si ritrovò presso la casa di lei una donna turbolenta proterva che non teneva piede in casa ora era per la strada ora è nella piazza e ora è in ogni angolo perché dove è il diavolo? ma perché dove lo troviamo il nemico? lo troviamo dappertutto ora è sulla strada ora è sulla piazza ora è dietro in ogni angolo siamo chiamati ad allontanarci dal buio per vivere vicino a Cristo Gesù il Signore lo vedremo tra poco questa donna gli andò incontro con abiti da meretrice in altre parole questa donna non era una meretrice ma andò con abiti da meretrice o meglio nessuno sapeva che lo era i suoi vicini non lo sapevano ma era una donna di facili costumi e quando il marito andava via lei portava a casa degli uomini il diavolo non si presenta subito non presenta subito se stesso dietro quella vicenda dietro quella porta aperta non sempre si presenta lui ma poi porterà sempre il conto quando alla fine ci farà del male Signore stasera abbiamo bisogno di custodire i tuoi insegnamenti Dio guarda dalla finestra e vide questo Salomone guarda dalla finestra e vede questo giovane che cammina nel buio si circonda di sciocchi viene incontrato da una meretrice lo porta a casa vieni tanto mio marito non c'è sollazziamoci di piaceri amorosi lei lo sedusse con le sue molte lusinghe lo trascinò con dolcezza oh notate ed egli andò ed egli le andò dietro subito ma ci fate caso fratelli che per la consacrazione egli e voi prima di carburare ce ne vuole oh ma egli e voi per peccare è immediato subito subito la si segue lo si segue come un bue va al macello come uno stolto condotto ai ceppi che lo castigheranno come un uccello che si affretta al laccio senza sapere che adesso la freccia gli perforerà il fegato figlio mio il tuo cuore non si lasci trascinare Dio guarda dalla finestra e sta guardando che qualche figlio suo sta camminando nel buio e camminando camminando nel buio si andrà incontro all'avversario e questo avversario ci viene incontro e con parole seducenti ci attira ci attrae per farci cadere signore aiutaci stasera se questo ragazzo fratelli che è lontano dalla casa di Salomone si trova nel buio e si ritrova a morire ho pensato ad un altro ragazzo sempre della Bibbia che è lontano dalla casa prova a rientrare vi ricordate Luca 15 fratelli questa donna lo spogliò il figlio il prodigo quando tornò a casa fu rivestito questo ragazzo fu privato della sua dignità il figlio il prodigo quando tornò gli fu messo un anello al dito questo ragazzo mentre camminava nel buio e si allontanava questa donna lo sporcò il prodigo quando tornò il padre gli mise dei calzari ai piedi questo giovane quando si allontanava nel buio perse la vita il giovane quando tornò il padre dichiarò era morto ma ora è tornato alla vita il ragazzo che vede Salomone muore il prodigo che torna vive per l'uno c'è il funerale per l'altro ci fu grande festa Dio guarda dalla finestra a questo ragazzo gli andò incontro il nemico se non mi sbaglio al prodigo gli andò incontro il padre stasera Dio guarda dalla finestra e sta osservando fratelli e sorelle Dio sta osservando tutti noi ci siete Dio ci sta guardando la sua finestra è aperta che nessuno si trovi come questo ragazzo tra gli sciocchi noi vogliamo trovarci tra il popolo di Dio nessuno navighi nel buio ma che tutti possiamo camminare nella luce che non ci venga incontro il nemico ci venga incontro Gesù perché il nemico verrà per rubare ammazzare e ferire Gesù verrà per darci vita e vita in abbondanza chigniamo il capo preghiamo insieme gloria al Signore gloria al Signore gloria a Dio questo ragazzo camminava tra gli sciocchi in mezzo al buio e quando non sappiamo cosa fare il diavolo ci troverà velocemente avete notato fratelli che mentre camminava che passava per la strada ecco fargli si incontro una donna stavo pensando a Davide l'anno seguente nella stagione in cui i re cominciarono cominciano le guerre Davide mandò Ioab con la sua gente con tutto Israele a devastare il paese ma Davide rimase a Gerusalemme una sera Davide alzatosi dal suo letto si mise a passeggiare sulla terrazza del Palazzo Reale e la storia la sapete quando non sappiamo cosa fare quando camminiamo nel buio il diavolo ci trova facilmente ci spoglia ci priva ci uccide ecco perché Salomone conclude il testo dicendo il tuo cuore non si lasci trascinare mentre ogni occhio è chiuso ogni capo è chieno vogliamo chiedere tutti quanti al Signore stasera a colui che ci guarda dalla finestra Signore aiutami a camminare nella luce aiutami a dimorare tra i santi Signore aiutami a trovarmi sempre impegnato nel tuo campo vogliamo alzarci tutti in piedi adorare insieme il Signore gloria al Signore gloria a Dio cerchiamo insieme la faccia del Signore c'è qualcuno che vuole essere aiutato da Dio stasera io sì vogliamo chiedere a Dio aiutaci Signore oh tu che mi guardi dalla finestra tu che osservi i miei passi aiutami a trovarmi nella luce Signore aiutami a non trovarmi tra gli sciocchi ma tra irredenti aiutami Signore a non essere avviluppato trascinato dall'errore e del peccato che si presenta a noi con un letto con morbidi tappeti con coperte ricamate d'Egitto Signore aiutaci a fuggire come fuggì Giuseppe dal nemico che si avvicina a noi Dio ci guarda dalla finestra fratelli e sorelle a tutti quanti nessuno escluso Dio ci guarda dalla finestra fratello tua moglie non ti vede Dio ti guarda dalla finestra sorella Dio ti guarda dalla finestra giovani Dio ci guarda dalla finestra fratelli e sorelle anziani Dio ci guarda dalla finestra il suo occhio raggiunge tutti nessuno escluso non vogliamo trovarci tra le tenebre ma tra la luce non vogliamo trovarci nella tenda degli empi ma nella casa di Dio non vogliamo trovarci tra quelli che perdono la vita ma tra quelli che la recuperano nel nome di Gesù e se qualcuno sta navigando sta camminando per le vie di questo mondo possa Dio aiutarci stasera a ritornare di nuovo nella casa del padre dove c'è musica festa gioia pace e ogni bene per la nostra vita adoriamo insieme il Signore vorrei chiedere a qualcuno di voi che sente in cuore di ringraziare Dio per la sua parola e levi una preghiera al Signore alleluia gloria al Signore vi ringraziamo per aver scelto di ascoltare il programma dai nostri culti possa il messaggio glorioso della parola di Dio trasformare la vostra vita e rendervi figli di Dio vi aspettiamo ad una nostra riunione di culto presso la chiesa cristiana evangelica delle assemblee di Dio in Italia di Prizzi via Sandro Pertini Gli orari sono il martedì e il giovedì alle ore 20 la domenica alle ore 18 e 30 Dio vi benedica grazie a tutti